Ciao a tutti, io sono Rotus, bentornati sul mio canale, sono qui per una cosa che sono sicuro, voi siate convinti, o mi si è dimenticato, ebbene sì, mi sono dimenticato, no, non mi sono dimenticato, semplicemente ero abbastanza impegnato con altre cose, quali ad esempio il Game Happens, quali ad esempio tentare di lavorarmi, quindi preparare degli esami, quindi studiare, quindi non riuscire a registrare niente. Come vedete in questo ultimo periodo non sono più riuscito a pubblicare video registrati, o davvero pochi, nel senso che non avete più visto Isaac, avete principalmente visto estratti dalle live, adesso sto portando avanti Fable Anniversary nelle live, e sto esportando i video, oppure i video del Jack SS. Comunque, a breve, finisco gli ultimi esami e torno a testa cuocere, anche perché dovrei anche portare avanti il progetto in collaborazione con Frink Expo, che mi ha passato degli altri titoli di sviluppatori indipendenti da proporvi, quindi a breve vedrete nuovi contenuti, che sono felicissimo di portarvi. Comunque, torniamo al contest per i 1000 iscritti e vediamo l'estrazione finalmente dopo 12 giugno e 14 luglio, dopo più di un mese, un mese e due giorni. Fantastico, allora, bisognava prendere la bastiglia per far sì che io potessi estrarre per il contest. E per fare l'estrazione durerà 6 ore e mezza, cominciamo leggendo i vostri commenti e rispondendo. Bird King, c'è modo esportare salvataggi di Isaac dalla PS4 nel PC? Non credo, perché sulla play c'è sempre mio fratello, quindi se potessi esportare salvataggi lo comprerei per PC. Non lo so, in realtà, ho detto non credo, ma non lo so, a meno che ci siano delle cartelle interne ai file installati locali di The Mining of Isaac, da cui te puoi stare proprio a salvataggio e passarlo a qualche parte, ma non ho un'idea perché io non ho la PS4 e non me ne intendo minimamente. E non è scritto partecipo, quindi suppongo tu non partecipi, ma partecipi sotto, ti sto vedendo, fantastico. Matteo dell'Agostino partecipo, con l'H, giustamente, mi segno sei il numero 1, Matteo dell'Agostino, dell'Agostino, ok, mi sto segnando tutti voi sulla mia gentina, così vi ho associati al numero. La serie che preferisco sono Isaac e Spelanchi, sono davvero due giochi, perché amo i roguelike, e invece la serie che non mi va a genio è Cook's Have Delicious, perché non mi piace il genere. In effetti è un po' particolare, però, secondo me, è un gioco bellissimo da giocare. Nel senso, quando ci gioco io mi caso tantissimo, mi rendo conto che non sia proprio appetibile per voi, infatti, l'ho ridotto, tranne che per cose speciali, o per la Daily Challenge. Tornamente che vi consiglio a tutti quanti di seguire. Felice de Chiara, allora, la serie preferita, a parte Isaac e Darkest Dungeon, Darkest Dungeon tornerà, ve lo giuro tornerà, non è morto, per l'infinita dose di fortuna che ogni volta mi sorprende. Quella che mi piace... la mia fortuna, sì. Quella che mi piace di meno è Cook's Have Delicious, quanto pare Cook's Have Delicious, non viviamo stagione, in quanto sebbene tradotti da coreano, il gioco è abbastanza repetitivo, questo è assolutamente vero. Non partecipi, ok, grazie mille. What the game brings to do, partecipo e ti segno, what the game, e poi mi ricordo che se te ci metto dei puntini accanto, come dire, continua. Partecipo, Caron Rotus, la mia serie preferita è The Vining of Isaac, gioco bellissimo, per i dettagli, e non so che dire, bello! Molti altri giochi mi piacciono e mi appassionano, ma Factorio non riesco a vederlo, non mi piace davvero. Sinceramente ci ho provato, ma niente da fare, comunque non vedo l'ora di vedere la continuazione, alcune serie tossisce, sussurra Darkest Dungeon... Darkest Dungeon? Ok, scusami, dovevo capire. Comunque non ho rotto, ormai penso che tu abbia capito che ti considero bravo e che guardare i tuoi video mi piace, quindi bravo! Stai facendo video. Dopo questa leccata di culo ti dico addio. No, non è una leccata di culo, ti ringrazio enormemente per i complimenti, Darkest Dungeon, come ho detto, tornerà, ve lo giuro, tornerà. The Vining of Isaac so che vi piace, perché è la più seguita del canale, tornerà anch'essa, è stata un attimo in pausa tranquilli, tornerà anch'io, sto smaniando per andare avanti. E compare un ozzetto selvatico qua accanto, intanto, che voi non vedete perché è tagliata, qua compare un ozzetto selvatico. Cos'è che volevo dire? Factorio non riesce a vederlo. Capisco, non è proprio, cioè non si adatta proprio al genere del canale, però essendo un gioco indipendente, che a me prende un sacco, di nuovo è un gioco alla Cursor Delicious. Io ci giocherai delle ore, però magari non si adatta tanto a essere portato sui video di YouTube. Ci sono indeciso, tra gran po' di paperclip, ho già scartato Cursor Delicious, troppo al coreano. Potrei scegliere al momento di estrazione? No, mi dispiace, ma se avrai estratto ti toccherà quel gioco lì. Sono cattivo in questo senso. Bird King, re della barba, partecipa. E intanto ti sto scrivendo, e ho scritto malissimo, fantastico. Partecipo, se sei preferita, The Vining of Isaac Rebirth. Capisco, mi piacciono tantissimo i giochi con altre giocabilità. Se sei che mi piacciono meno, Cursor Delicious. Cursor Delicious è un pugno nello stomaco per voi. Troppo ripetitivo, sinceramente, non ci capisco un cavolo, perché va troppo veloce. E-mail, ok, poi te la... Ho anche proprio Steam, poi allora limitati, contattarò lì. Grazie. Puke Gamer, partecipa. Puke Gamer. È il numero 4. Se sei preferita, The Vining of Isaac Rebirth. È il motivo per cui ti segui, poi mi piacciono vederti, sperdere, per cavolate. Mi odierai? No, in realtà vi adoro, perché so che voi godete nel vedermi far cazzate. Quindi mi sento in parte giustificato. Se è che non mi piace Crusader King, perché non piace il genere? Posso capire, logicamente comprendo una grande varietà di giochi, ci sono anche generi diversi e non tutti possono piacere. Crusader King, tra l'altro, tornerà a breve con la Succession Series, la serie da successione che stanno andando avanti con altri giocatori. Quindi, chi lo sta aspettando, se lo rivedrà, tornare. E-mail, grazie. Steam own. Ok. Bius Channel, partecipo. Are you Bius Channel? Ok. Ho scritto giusto, sì. Se sei preferita, The Vining of Isaac Rebirth. Il gioco che amo, perché ogni due episodi nasce uno con The Lost. E purtroppo adesso mi odierai, perché un attimo in pausa, ma come in pausa al canale, in pratica. Arriverà, arriverà. Se sei non preferita, Cooks are delicious. Tu lo rendi molto interessante, ma non mi piace assolutamente il gioco. Ecco, dovete giocarci, fidatevi. Se ci giocate, vi renderete conto delle potenzialità che nasconde questo gioco e venderete l'animal di Apollo, tra l'altro. Brian Pitino, partecipa. Brian Pitino, col numero 6. The Vining of Isaac Rebirth. E Cooks are delicious. Qualcuno che ci si sballa con questo re-delicious. Grazie, Isaac, perché mi piace il commentario e il gioco in serie. Cooks are delicious in primis perché mi piace vederti sclerari, giusto? E anche so per il gioco in serie. Serie che non mi piace, non so, sinceramente. Non mi piaceva molto a Tly Miami, comprendo, ma dal resto non so. Forse Factorio perché è un po' noioso, anche se mi piacciono quei tipi di gioco. Comunque complimenti per i 1000, anzi i 1100, è vero, perché poi sono... Ho fatto in ritardo quei... Come ho fatto in ritardo? Il contesto ho fatto in ritardo all'estrazione, ci sta. Potrei scartare Gunpoint? Non mi piacciono molto i tipi di platforming. No, più che altro perché se no dovrei... Cioè non posso fare preferenze per voi e non per altri. Vi prego di comprendermi. Vi prego davvero. El Brazo Pwn, partecipo. El Brazo Pwn. Con numero 7, partecipo. Sarei preferiti a Isaac, essenzialmente da come è strutturato e da come fai il commentary tu. Grazie. Da che stangelo per l'atmosfera. Vero, verissimo, un'atmosfera estremamente caratteristica. Sarei che non mi piace Crusader King, perché la trovo troppo macchinosa. Ma semplicemente non mi piace i giochi di sé. Decisamente, i giochi della Paradox, bisogna entrarci dentro tantissimo. E quando ci sei dentro, magari ci si può cominciare a sentire padroni della situazione. Ma anche per me, che gioco è macchinoso. A volte non capisco minimamente cosa succede e capisco che per un esterno possa essere ancora più macchinoso. Complimenti per i miei descritti. Grazie. Detalax 97. Detalax 97. Partecipo. Si può scegliere il gioco? No. Per di più vi intercambiate. È una cosa che... No, l'importante è che non ce l'abbiate. In quel caso potrei cambiare idea, ma dato che parlate di preferenze non posso. Sarei preferita di Bandicoise e Criber Earth perché mi piace lo stile di commento, oltre che il gioco in sé, e anche lo stile di alcune strategie di gioco. Quando ci sono, si intende, gappi compreso. Anche Anti-Chamber non mi dispiace, però pur essendo una serie normale, perché adoro il gioco. Infatti non ho già più noroni. Ti capisco. Sarei meno preferita? Boh, forse Factorio, ma non è che ne abbia una che proprio non mi piace. Ok. Anti-Chamber anch'esso tornerà registrato al di due video, in realtà. Mentre Mac faceva la live di Axion Verge, e di nascosto, zitto zitto, andava avanti con Anti-Chamber senza grandi risultati. Però ho due episodi da schiaffare qua, per poi poterlo continuare in live. Riccardo Galazzi partecipa. Numero 9, Riccardo... Galazzi, fantastico. Partecipa. Più bello Nuclear Throne, non perché Isaac sia peggio, sono solo le ragioni di affezione, capisco perfettamente. Più brutto Crusaders and Kings. Mi piace questa rivisitazione del titolo. Comunque Crusader Kings. Non è brutto, solo che è entrato nel dimenticatore delle cose. Andate male, andate male dopo che le ho lasciate in così poco tempo. È vero, ma... Appunto tornerà, stai tranquillo. Paceo Channel, bravo noto, sono detto che lo stiamo giunti a giugno, grazie ogni volta ai miei supporti, grazie mille. Grazie mille, soprattutto. Muchas gracias, sarà meglio. Yata vs The World, Yata, amico mio. Anche lui è un canale, andatelo a vedere. E fa Isaac, quindi nel momento che io non sto facendo Isaac, potete vedere i suoi video di Isaac. Partecipo. Sempre preferito a Darkest Dungeon, assolutamente, perché l'idea di un RPG gioco like mi intriga assai. Mi piaccio, mi impersoni in voi e aggiungo commenti che non avete scritto. Infatti vedendolo a te l'ho acquistato per fare una serie sul mio canale. Esattamente come è capitato a me vedendolo dai big canadesi americani. Ho detto, io questo gioco lo dovrei farci una serie. Worst Series, Hotline Miami. Non c'è un vero motivo per cui tu sei una causa, ma lo stile del gioco non mi stuzzca minimamente. Se ho l'indirizzo per venire a cercare vendetta, fai pure. Il premio più interessante, Pray Pairs Please. Come ho detto prima, ci provo. Cioè, non ci provo, no, non sarà possibile. Giallo colorito. Giallo. Giallo. Colorito. Numero 11. Partecipo, se hai preferito a The Bannik Vezer Rebirth, perché adoro il gioco e vederti vincere o fare stronzate. Eccezionale. Quindi in ogni caso io me la cavo. Vedete che sono multiforme come artista. Artista poi, per le parole grosse. Se è che non mi piace il Factorio, trovo il gioco in sé noioso. Complimenti per il traguardo, il prossimo obiettivo sarà e dovrà essere il mondo. Partiamo con la Polonia. Scusatemi, l'infima battuta. Michele Greco, numero 12. Michele Greco. Notate che tento sempre di cantare i vostri nomi. Partecipo, se hai preferito a The V Challenge, perché... Da quella che ti seguo. Arrivo da Glitcherud. Benvenuto, benvenuto. Serie meno preferita. E ti ricordo che ogni lunedì sera, dalle 9.30 alle 11.30, facciamo una live con Glitcherud, Edux e MazingaZ92 su twitch.tv slash glitcherud. Oppure multitwitch.tv slash glitcherud slash neratusgames. Io mi piace quando mi persona fare il pubblicitario. Ehm... E le challenge assolutamente, seguitele tutti, sono davvero belle. Serie meno preferita, The Manic of Isaac. Paradossalmente il primo. Perché è l'altra tua che segue, se non è arrivato da poco. Quello di un'ipotetica classifica sarebbe nel secondo posto. Capisco, nella daily c'è più pathos perché stai contro tanti. Assolutamente sì, comprendo benissimo. Te l'ho scritto, Michele, sì. Flavio Di Stefano. Sarei preferita nuclear e nuclear, ragazzi. Throne. Perché sei un nabbo e quindi ti alleni di volta in volta. Questo è vero. È una cosa che secondo me piace molto dei giochi quando inizi da zero. E che la gente ti insulta perché non capisci. Però è bello vederti aumentare, diventare sempre più bravo. Dopo questo viene a bruciare... Sarei brutta... Castle and Night. Che ragazze, almeno provateci. Non so come si chiama. Troppo legnosa e lenta. Al massimo è andare interessante. Non è facile avere una gracia. Dopo questo viene a bruciare la mia casa in piccolo per romano. Ecco la voce sexy. Crusade the Kings 2. State storpiando tutti i giochi. Allora, Paradox sono morti trasviluppatori. Però non è scritto partecipo. Mi metti in crisi, ragazzi. L'ho ripetuto 15 volte. Suppongo tu non partecipi o l'avrei scritto dopo. Vedremo. Nico Berti. I giochi sono interessanti. Peccato che non ho Steam. Mi dispiace tantissimo. Certo. Ma fatte lo Steam. Davvero ce l'abbiamo... Ci mette un attimo. Ah, magari non è NPC. Certo, partecipo. Sarei preferita Isaac tutta la vita. Yep. Perché è un gioco che ogni volta è diverso. Perché sembra che quando giochi da Isaac sei più disinvolto. Può essere, assolutamente può essere. Sarei che mi piace di meno Darkest Dungeon. Paradosso. Solo perché non amo il gameplay del gioco. Comunque comprendo. Grande. Continuo che mi piace tanto. Grazie mille. T'ho scritto certo. Yep. Ita Raffiteo. Quindi scrivo Raffiteo. E vedrò di ricordarmi che c'è un Ita davanti. Raffiteo. Giusto? Yep. Partecipo. La serie che provisco a Isaac perché oltre ad essere un bel gioco secondo me riesce ad intrattenere bene e non parli in modo sgarbato. Più o meno. Ogni tanto mi scappa qualche parolaccia. Però va bene. Grazie mille per i complimenti. Non ho una serie che non mi piace perché il tuo canale è perfetto. E spero che tu... Che tu ma non peggiori con la fama. Questo? Sono confuso. Probabilmente sia stato l'autocorrettore di mezzo. Ah che io non peggiori con la fama. La fama sono parole grosse dato che non si può parlare né di fama né di soldi. Cioè fama per me volendo sì dato che non mi saremmo aspettato di arrivare fino ai iscritti. Già per me vuol dire essere noto oltremodo. Nel senso non avevo cinque iscritti là quando ho iniziato. Non ho mai spammato nessuna parte. Siete arrivati tutti voi. Ho solo fatto conoscenza grazie ad altri canali. Abbiamo creato un po' di comunità. Quindi per me arrivare qua è già stato un traguardone. Quindi per me potrei vederla come se fossi famoso ma non lo sono. E soldi assolutamente. Col mio trono di goliador come dico io. Galaxy Luke. Partecipo. Numero 15. Galaxy Luke. Non finirò più. Se hai preferito un'occhiata. Bravo. Tornerà anche quella. Devo fare troppi. Ho troppi giochi in libera di stime. Devo farne troppe occhiate. Perché mi permette di conoscere giochi che non conoscevo. Gioco preferito. Spella anche. Grande. Perché mi piace molto come ci giochi. Grazie. Se hai non preferito a Cooks of Delicious. Perché non è il tipo di gioco che mi piace. Comprendo. Se potessi scegliere il gioco sarebbe gunpoint. Nope. Mi dispiace. Luca Taibi. Partecipo. Gioco preferito. Spella anche perché sei un pro. Uggh. Addirittura. Tommy è davvero un pro. Quei ragazzo. Dobbiamo cominciare a giocarci. Provate a morire inizio livello. Tirandomi un sasso in testa come qualcuno. Eh. Conosco il problema. Gioco odiato. Darkest Dungeon. Perché non mi piace il gioco semplicemente. Sei un mito. Continuo così a non cambiare. Grazie mille per il supporto. Davvero. 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 T'ho scritto. No. Non t'ho scritto Luca. Maledizione. Maledizione. Adesso ti scrivo. Avvocato. Stavo commettendo un errore notarile. Ehm. Vanadius Channel. Partecipo. Se preferito Isaac. E quando mai. Se vuoi che mi piacerebbe. No. Cusare delicio. Sono trovato noioso. Scusa. No. Ma lo comprendo. Gioco che mi piacerebbe. No. Ma come. Dopo vi brucio la casa a tutti. Vi ho segnati sulla gentina a posta. Gioco che mi piacerebbe avere Darkest Dungeon. Ma. Non lo do. Non l'estrago Darkest Dungeon. Qualsiasi altro che tratti tranne i sopraccitati. Isaac. C'è l'Ocusar Delicious. Non mi piace. E ragazzo. Non ce l'ho Darkest Dungeon. Da estrar. Da regalare. Ehm. S26 REC. Che probabilmente si legge in qualche maniera. Che non riesco a leggere. REC. REC. Con la H. Il 2. Scriviamolo meglio. Ok. Partecipo. Sarei preferita a The Band of the Crippards. Questo perché riesce a tenermi attaccato allo schermo. Parlando di qualunque cosa. Grazie mille. E il fatto che te la cavi a giocare. Questa dove. C'è da discutere su questa frase. Che mi piace il genere da un non so che in più. Inoltre si sta tutto a farmi scoprire questo gioco. Quindi è un legame anche effettivo. Di questo mi fa davvero. Profondamente piacere. Perché. Conosco la sensazione. Io guardando i video di Northern Lion. A parte che ho scoperto il canale di Northern Lion. Grazie a The Band of Isaac. Ma ho anche conosciuto il gioco. E mi ne sono innamorato. Quindi ho detto. Wow. Wow. Grazie. Grazie. Grazie mille. Storia peggiore. Tra virgolette. Factorio. Non tanto per te. Ben sia per il gioco. Comprendo che non riesco proprio a farmi piacere. Ok. Ti ho scritto. Rexy. MaxVolt. Numero 18. MaxVolt. Partecipo. Sei preferito The Band of Isaac. Perché essendo un appassionato di questo gioco. Ad essere con cui ti ho conosciuto. Grazie. Sei peggiore. Secondo me. Factory. Factorio. Visto che non ci capisco niente. Non riesco a finire un episodio. Comprendo. Benissimo. Ma ti ho seguito. Grazie. MaxVolt. Ho segnato. Sì. Ho segnato tutto. Di Gamer Tour. I giochi non mi piacciono. Però non condivido. Perché i miei amici non devono vincere niente. Sono confuso. Aspetta. I giochi non ti piacciono. Ok. Quindi non partecipi. Però non condivido. Perché non vuole neanche che i suoi amici vincono. Se siete amico di questo ragazzo. Fidatevi. Lasciatelo stare. Mi pugnalerà le spalle. Ok. Daniele invece partecipa. Posto 19. Daniele. 34.013. Daniele. 34.013. Partecipa allora una domanda. Io ho già Cookserve Delicious. Quindi in caso esco adesso. Ci credo pure. Mi dai uno degli altri due giochi o niente. Mi metti in crisi. Ci scrivo. Ha già Cookserve Delicious. E spero che la legge delle probabilità non mi faccia casino. A. C. S. D. Il gioco che preferisco è The Binding of Isaac Rebirth. Perché riesci a intrattenere con certe cazzate. Che non perdo un secondo del tuo video. Il gioco che mi piace di meno. Non ne ho nessuno. Mi piacciono tutti. Se vuoi un piacere. Mi dispiace. Se puzzerò un po'. Ma succede. Questo è tutto. E vabbè. Puzzi un po'. Ma non c'è problema. Anch'io puzzo tantissimo. E ma 7000 di gamer. Per di più. Ecco. Contenere. Ho sempre il problema che non posso mai risponderti ai commenti. Non lo faccio perché sono una carogna. Ma. Ops. Mi dispiace di tenere più su. Se no vi perdete i commenti. Perché è sfasata la visualizzazione. Magari posso modificare un po' la scena. Così. Tipo. Sì. Così si avrà meglio. Scusate. Ok. Dicevo. Ema 7000 di gamer. Ti devo segnare. Ema. Dicevo. Non posso mai risponderti. Perché probabilmente non è linkato con Google+. Questo è boiato. Quindi se mi vuoi scrivere e vuoi risposta. Probabilmente mi devi scrivere sotto il mio commento vuoto. Che c'è sotto ogni video. Oppure rispondere al commento di qualcun altro. Allora credo di poterti rispondere. Se no altrimenti non ci riesco. Dipende che vado a scrivere Burt. E' la serie con la quale mi sono amicinato al tuo canale. Grazie al tuo primo video. Ho convinto mia madre a comprarmelo. Yey. Mi piace vederti giocare. Perché ho un calo di frame della madonna. Da Necropolis 1 fino a Sheol. Mmm. Questo potrebbe essere un problema. Non sono ancora arrivato alla ceste. Mi sarò nervoso. Quindi spesso invece che giocarci. Guardo i tuoi video. Mi diverto come un matto. Isaac in sé come gioco mi piace. Perché boh. Mi piace e basta. Dungeon. Pazzesco. E' scritto anche giusto. Se l'ho scritto sfogliato anche meglio. Vuole infierire. Mi fate troppo ridere. Non mi piace come videogame. Perché odio il tipo di gioco. Principalmente perché non sono capace. Le battaglie che da guardare sono brutte. Ed è anche colpa tua. Più o meno. Perché ogni volta che vedevo una notifica di quel gioco. Mi dico. Perché non ha fatto Isaac Spell anche io. Alta. Così mi arrabbia un po' con te. E' uno spreco di talento. Per cacciare la miseria. Mamma mia. Perle gettate i porci le mie. Avendo un pc. Del presto cena. A chiunque. Anche senza prendere un altro premio. No tranquillo. Sono tutti giochi. Non particolarmente grandi. Ti ho segnato Emma? Sì. Mi ho segnato solo 20 postazioni. Ma siete molto più di 20. Quindi adesso devo farmi un'altra riga di postazioni. Voilà. Postazioni. Numeretti sulla mia agenda. Vuol dire postazioni. E non fatevi idee strane. Megalomani. Andrek 5 Official. E ti segno subito. Andrek 5 Official. Partecipo. Se hai preferito. The Minding of Isaac. Adoro questo tipo di gioco. E mi piacciono i discorsi che fai nei video. Grazie. Se hai che non mi piace. Necrodancer. Ho fatto solo un'occhiata a. Però posso comprendere. Anche se Necrodancer mi piace troppo. Per non piacere. Il gioco sia bello. La musica è figa. Il sistema è combattimento è figo. Ma non mi piacciono molto le serie su questo gioco. Sì. Forse. E' anche difficile tenere una serie. Perché. Fare un commento a risensato. E' praticamente impossibile. Andrek 5 Official. Ho segnato. The Magician. Non partecipe. Allora la mia serie più amata è The Minding of Isaac. In generale. La più odiata da me. Crusader Kings. Cruzard Kings. Se l'uno che il due non mi piace il gioco. In sé non mi sento. La sensazione di nerding. Io la sento molto quella di nerding. Perché. Quando vedi qualcuno che gioca bene a Crusader Kings. O a Ropo Universalis. Dici. Ok. Questo. Ha buttato nel cesso la propria vita. Perché. Come fa a sapere così tante cose. Come fa a capire tutto. P.S. Aspetto con ansia la serie di Crypto. Per te necrodanser. Viste i risultati. La prima settimana. Balordi. Ok. Condorello88. Ci hanno dato superato il fatto che sono incollito il mio. Ma bisogna iscriversi qui per il conto. O fare un video a parte. Non ho capito benestà cosa. Grazie. Devi iscriverti qui. Però. Dato che mi hai chiesto. Suppongo tu parte. A parte che bastava che leggessi gli altri commenti. Però. Condorello. Dato che. Espresso. C'era qualcuno che proprio non aveva. Detto se partecipavano o parteci. No. Però. Sì. Vabbè dire che partecipi. Condorello. Mi segno. Condorello88. C'era un altro che non aveva scritto. Però. Non aveva proprio dato. Specificato. L'intenzione di partecipare. Te. Non avevi capito. Magari mi hai scritto dopo. Quelli più. Quindi. Ti segno. Come 22. Condorello88. L'orio. Orsio. Orsio. Chiedo scusa. Partecipo. Grazie. Non ho trovato super servato a mille. Ma soprattutto. Per aver proposto. Mi apparire un tipo di contesto intelligente. La mia serie preferita. Anche se non essere intesa come tale. Credo. Sono il GHSS. Davvero. Mi fa davvero tantissimo piacere. Muero dalle risate. Tutte le volte che raccontate boiate. O cantate robe improponibili. Non guardare me. Sono lo zetto ed edo. Non guardate me. Fidati. Mi cantate meglio. A me lo preferite Factorio. Un po' me. Perdonami. Un po' noioso. La migliorerei forse movimentandola un po'. Ma. Continua. Magari sarà che non mi piace il gioco. Raccontina così che ci piace. Stavolta speriamo in un po' di culo. Perché si vanno per vincere. Eh. Speriamo. 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 Ehm. Per il GHSS. Comunque appunto. Come ho detto precedentemente. Vi ricordo che potete trovarlo. Ehm. Ogni lunedì su Twitch. Ice Wolf. Ti ho già segnato. Ma avrai scritto dopo. Quindi ti segno dopo. Aspetta. Lore. Prima Lore. Adesso faccio casino. Non vi lascio fuori. Ursio. Mi segno Ice Wolf. Che avrà partecipato da qualche parte. Ice Wolf. 4, 5, 0. Ok. Mario Napolitano. Caro mio. 25, 26. Ti conosco dalle live. 27, 28. Per questo vi dico partecipate alle live. Perché ci si conosce. Parliamo. E praticamente possiamo interagire direttamente con voi. Mario. Nap. Partecipo solo perché sono un bastardo. Ti dico che non mi piace nulla le tue serie. Perché sei uno sculato incredibile in tutto e per tutto. P.S. Tu non mori e ti suicidi forte. Esattamente. Citando le live. Lorenzo Pasi. Lorenzo. Partecipo. Sei preferita alle mani. The Binding. Vabbè. Ti perdono. Sei perdonato. The Binding. Questa è semplicemente perché è un gioco geniale. Che ti spinge a prendere decisioni a volte strane ma utili. Decisamente serie sfavorita. Factorio perché non mi diverte e non riesce a coinvolgermi. Comprendo. Camo's Channel. Orbene. Partecipo. Vai. Camo. Sei preferita. Nuclear Throne. Capisco che i pochi non l'abbiano apprezzato per la staticità della situazione. Ma il gioco era stupendo. Il tuo commento è impeccabile dei tuoi bestemmi. Non so. Avrei piacere. Voi vi nutrite della mia sofferenza. Invece la serie che ho apprezzato di meno è Crash Bandicoot. Gran gioco ma non aveva le feeling tipiche delle altre serie. Immagino. In ogni caso sono tutte serie che vengono specificate. Non l'avevo specificato. Ho fatto ancora per Crash Bandicoot. Ma come Norotus Live. Ovvero sono estratti dalle live mie. E quindi hanno proprio un approccio diverso come commentary. Dato che ci sono molte più distrazioni essendo live. Ed è una cosa che ogni volta è meglio che specifichi. E soprattutto. Spesso sono in compagnia di altra gente. Quindi non c'è un commento. C'è un più che altro. Due chiacchiere mentre lo gioco al gioco. Continua. In ogni caso ti seguo da parecchio. Ormai vederti Crash era un piacere. Meriti tanto. Grazie mille. La cosa bella dei canali minore. Proprio la mancanza di elaborazione. Prendere il gioco. Registrare mentre si chiacchia la stessa serie. Rentalizzarlo. Sbatterlo in faccia ai propri iscritti. Certo è un stile rudimentale. Ma mi piace. PS volevi un poema sul bellezza del tuo canale. Ecco. Grazie mille. Grazie grazie mille. Davvero. Io ho questo stile. Perché. C'è chi potrebbe dire. Non hai stile. Perché non voglio perdere tempo su. Cioè montaggi. Cambi del gioco. Buttare musiche strane. Colpi di scena per far ridere. No. È il gioco. Giochiamo al gioco. Ci facciamo due chiacchiere. Io parlo del gioco. Ma non parlo solo del gioco. Perché se no ho capito. Cioè se uno. Se voi guardate un gameplay. E quello che sta facendo il gameplay. Parla solo di quello che sta facendo. Dice. Vabbè grazie. Io gli occhi ce li ho. È per fare due chiacchiere. Per dire i propri opinioni. Per pensare. Per vedere un pochino cosa c'è nella testa di una persona. Anche quando gioco. E quando gioco a The Manic of the Rebirth. Tento sempre di dire. Allora. Cosa potrei desiderare adesso dal gioco. Oppure adesso. Come potrei morire nella maniera più veloce possibile. Dato che sta andando tutto. A bagage. A proposito del linguaggio corretto. Niente. Andiamo avanti. Camoto ha segnato. Sì. The Mr. Techno. The Mr. Techno. Aspettate che intanto segno qualche postazione in più. Mamma mia quanti siete. Partecipo. Se hai perfetto di ripetare i miei commenti. Che mi piace come ci fai i video spiegando gli oggetti. Ti fai appassionare chi guarda i video. Ok. Se mi hanno preferito. Aspettate anche strano. Perché non mi piace per il genere. Ma capri. Comprendo. Gamer's Team. Scrive solo partecipo. Che quindi. Non. No. Perché. Magari è scritto sotto. Allora. Chiano. Condorello. Che prodotto segnato. Perché te eri confuso. Gamer's Team. Non mi sembri confuso. Ma sembra che tu non abbia visto niente del resto. Sto a farmi vedere se sei ricomparso. Ice Wolf era ricomparso. Meno male che ti ho segnato. Ice Cube. Com'è che ti chiamavi? Avevi. No. È scritto solo partecipo. Quindi si è una carogna. Che l'hai neanche guardato. Il video. Chiano Rotus. Questa volta non partecipo. Ma volevo comunque con te per i miei descritti. Se hai preferito praticamente tutte. Isaac per primo. Ma anche Luca la throne. L'unica che non riesco a vedere è anti-chamber. Ma solo perché mi fa incollinire. Guardando altri 3 minuti di seguito. Pensavo che ci gioco. E partivo già male. E dopo non riesco a ribeccarmi per un po'. Grande ancora. Grazie mille Simone. Tsumi no Akuma. Partecipo su... Aspetta mi sono segnato tutti. Devi stare che non era l'ultimo. Ok. Tsumi no Akuma. Con numero 29. Tsumi no Akuma. Akuma. Partecipo ad ora. Roquelike Games. Quindi invoco The Manic of Isaac. Dall'altro lato abbiamo The Crypt of Neck of Dance. È un gioco musicale di cui io non vado matto. Così me ne comprendo. Complimenti per il traguardo coreano. Grazie. Hi. Hi. Pommi. Hi. Pommi. Hi. Pommi. Partecipo su preferita The Manic of Isaac. Perché non mi piace la Cassandra. Perché il gioco non mi piace in sé. Comprendo. Grazie per i dati. Volcano Games. Volcano. Games. Partecipo su preferita. Isaac perché mi chiamano i Rouge Likes. Sono un po' a luci rosse. Rouge Likes. Sai che mi piace meno? Hotline Miami. Ma mi piace. Mi piace o meno degli altri. Che se potessi scegliere per prendere Purpose Please. Non puoi scegliere perché questa è una dittatura. Vi sono risposto a PSF Episodidi di Agar.io. Quelle perché l'altro li usavo per spezzare nelle live. Quando dovevo aspettare Mac. Quindi ogni tanto potrebbero tornare. Cesco. Forse. Non ho capito se partecipi. Mi sa che non partecipi. Mi cherzo. Cesco. Swag. Non fare troppo swaghettino ribellino eh. Notami notami notami. Cursor Delicious Pref. No. Non te lo do. Ah qua iscrive. Come facevo notarlo. The Binding of Isaac perché è bello. Factorio non mi ispira. Poi boh. Mario Napolitano. Vabbè hai già il mio account simsì. Ok. Shadow Storm 12. 32. 33. Shadow Storm 12. Partecipo. Adoro The Binding of Isaac e Bird. Peccato ai giochi dove ogni volta si riparte la capa. Trovo sempre combinazioni di giochi diversi. Non mi piace molto Factorio perché non adoro quel tipo di gioco. Ma lo seguo comunque perché adoro come commenti video. Mi interessa di più Gunpoint. Ma avevo detto io di specificare cosa vi interessava. Adesso. No. No. Non l'ho scritto io. Quindi mi state confondendo. Perché non mi ricordo neanche quello che avevo detto. Però. Va bene. Questo qui era Shadow Storm. Con il numero 33. Quanti siete? 34. 35. Sto parlando a razzo. Perché non voglio che il video duri 40 minuti. Ma durerà 40 minuti. Shadow Storm è l'ultimo. Gianluca San Marco. Partecipa. Numero 34. Gianluca San Marco. Scritto da cani. Non capirò cosa ho scritto. The Binding of Isaac è diversa. Una storia un po' da capire. Un alto livello di sfida. Cripto di neccodenza. Era bella la musica ma il gameplay non mi piace. È proprio fastidioso muoversi a tempo. Marco Abate. Partecipa. The Binding of Isaac è aperto. Nivano di varie salte. Mi piacciono i giochi roguelike. Sera preferita. Forse anche l'altra aveva scritto roguelike. Ho letto rouge. No. Ha scritto proprio rouge. Ok. Non sono una carogna. Non troppo. Sera peggiore. Factorio. Non ci capisco molto. E non mi piace quel gameplay basato sulla meccanica. Comprendo. Marco Abate. Marco. Abate. Con due T. Come ho fatto a scrivere Abate con due T? Ah no. Era una scritta male. Icewolf 458. Ho già segnato. The Binding of Scriberd. Non c'è un vero proprio gioco che non mi piace. Ma sono dovuto provvedire Crash Bandicoot. Perché non mi piaceva la grafica. Vabbè. È stato il mio primo gioco per il PS1. Capite? Se possibile mi dai il numero 2. Di solito porta fortuna. No. Non posso. Ho già piazzato tutti. Mi dispiace. Non posso. Matkiller02. Partecipo. Binding of Scriberd. Perché è un'irana randomica. Ed è divertente vederti sclerare e incazzarti. Fantastico. La storia che non mi piace mai nel Factorio. Perché è abbastanza noioso. Comprendo. Matkiller. T'ho segnato. 37. Mr. The Nintendo Player. Mr. The. Nintendo. Player. Partecipo. Sei preferita a Rebirth. Perché mi hai fatto conoscere te. Sei meno preferita. Non ne ho. Perché sono iscritto. Poco. Prendete qua. Dai. Viti il Magic of Isaac. Rebirth. Tanto di cappello. Dato che con questo avevamo 87 video. Sarei visti tutti. Wow. Grazie mille. Mi ha dato tantissima visuale. Alex Kill. Non trovo già scritto. No. Sono io che sono un po' confuso. Come sempre. No. Non ti ho già scritto. No. 38. Alex Kill. Partecipo. Sei preferita a Spelanchi. Sei bravo a giocare. Ci riesci a intrattenere. E fai anche ridere. Quando picchi il negoziante. Quindi per me è la migliore. Sei che non mi piace. Cooks are delicious. Va bene? Anche se sei coreano. Lo metto il gioco. E se non mi diverte. Continuo così. Continuo a Spelanchi. Farò tutto. Con calma. Quando avrò tempo. Vi giuro. Registrerò tutto quello che voglio. Ma non ho mai tempo. Mr. Rita90. Sono qui solo per commentare. Hai avuto qualche problema con l'audio della musica di Isaac? Lo sento scatti in sottofondo. Non mi sono reso conto. Potrebbe essere. Comunque se approfittai. Isaac perché me l'hai fatto conosco. Ho imparato a giocarci. Guardando i tuoi video. Factorio. Perché il discorso dell'automazione mi sembra molto carino. La meno piacevole Spelanchi. Non mi piace come genere di gioco. Anche se la serie. Ma guarda. Lo stesso. Puoi piacere di ascoltare il tuo commento. Grazie. Grazie mille. Continuo che sei molto bravo. Grazie mille ancora. Quindi sono qui solo per commentare. Vuol dire che non partecipi. Direi. 39. Ho riempito una pagina. Soul. Partecipo. Soul. Eh. Sempre preferito Isaac perché è un gioco che mi piace molto. E io ti reputo un buon giocatore. La serie che non mi piace. Ho 3 Miami. Qui tu non c'entri. È il gioco in serie che non mi piace. Andrea Gamer XD. Player Gamer 99. Giusto per. Non c'ho spazio. Scriverò Andrea Gamer. Andrea. Gamer. XT. Eh. Devo fare 3 sezioni. Poi vi faccio una foto. Prima di aprire questa agenda. Partecipo. Il gioco preferito da Gary Oma. Siccome è solo un video dalla live. Allora se mi piace di più. Ed è bene. Grazie a te. Quindi per questo. Segui sempre per i tuoi video. Grazie mille. Per se che non mi piace. Dico solo. Che non c'è. Mi piacciono tutti i giochi. Quindi è tutto. Grazie mille. Christopher Dalmonek. Partecipo. Con l'hashtag addirittura. Così lo vedo anche meglio. Grazie. Non ce l'avevo pensato tutti. No spero spero spero. Undergamer ti ho segnato. Sì. 41. Christopher. Christopher. Dalmonek. Sempre finita Darkest Dungeon. Pecamo i combattimenti a turi di Dungeon Explorer. Sì che mi piace. Mi ha notato i maimi. Perché non c'ho proprio. Perché non mi piace. Basta. A molti non è piaciuta. Proprio non piace il genere. Probabilmente. Ah. Siamo arrivati in fondo. 42. Pietro Durante. Pietro. Durante. Ok. Partecipo. The Binding of Us. Per chi mi piace il gameplay. Per il buon commentare. Ancora di più. Serie favorita. Antichamber. Topacofusione. Gioco che vuoi vincere. Paper Splice. Mi dispiace. No. No. Non puedo signore. 43. Vedete come ho imparato lo spagnolo. Sword. Sword. Partecipo. Se preferite a Factor Multiplayer. Ti ho scoperto grazie a questa serie. Serie che mi piace di meno. Ora come ora. Non ci sono serie che non mi piacciono. Forse un pelo di Binding of Us. Ma per via del gioco. Non di te. Grazie per tutti i dettagli. Antonello Salmaso. Quindi 44. Gatti. Infine. Ecco la resta di due. La smetto. Antonello. Salmaso. Partecipo al contest. Serbe fritta. Le mani di quale scrivere. Scoperta a caso. Dopo che guardo un episodio di inglese. La cerco per una serie. Trovo te. Dopo le prime puntate che hai fatto. Me la sono scaricato subito. Inizio mi sembra un gioco senza senso. Poi mi ci sono appassionato. Genere mi piace molto. Anche la storia. Serie non preferita a Factor. L'ho guardato. Prima episodio. Dopo 5 minuti. Non mi piaceva. Per le cose da fare. Il genere. Eccetera. Sinceramente. Quei 5 minuti. Mi sembrava che eri molto bravo. Ma non so se ho detto una cazzata. Ma so che gusti. Mi fa piacere questa serie. Ok. Mi è piaciuto. Di quello che hai detto. Il fatto che tu mi abbia trovato. Perché hai visto video in inglese. E che secondo me. Io conto molto su quello. Per il mio canale. Nel senso che. La creazione. Perché è quello che stiamo parlando. Di quello che stiamo facendo. Con quei pochi canali. Che siamo qua. E con quei pochi canali. Intendo probabilmente. Quelli con cui facciamo. Deli challenge. E qualcun altro. Che sta nascendo. E portare. In risalto. Questo genere. Di giochi che sono. Di micchia qua in Italia. Non conosciuti. Non c'è nessuno che li tratta. Cioè YouTube Italia. È proprio privo. Di questo contenuto. E con uno stile. Che è molto simile. A quello che è presente. Su invece. YouTube americano. Canadese. Anglofano diciamo. Con appunto. I grandi. Di questo genere. Che sono. Nord of the Lion. Bird Tuffy. Alpaca Patroller. Oakley Smile. Tutti questi qua. Che. Portano. Cioè. Cerchiamo di portare. Questo come io almeno. Ma credo anche Mac. E gli altri. Portare questo. Stile di giochi. Con questo stile di video. Soprattutto. Per farli conoscere. Conto anche molto. Che uno vada e dice. Ma. Ci sarà qualche italiano. Che li fa. Cioè. Cazzo. Possibile. Io. Mi sono trovato così. In questa situazione. Io stesso. Da utente. Guardavo e dicevo. Ma. Belli. Di video. Nero del Lion. Mi ci sballo tantissimo. Ma. Ci sarà qualche italiano. Che li tratta. E. Tabola rasa. Ci siamo. Adesso stiamo nascendo. Sempre di più. E cerchiamo di formare. Un po' di community. Lo stiamo provando a fare. Con. Delli challenge tournament. Perché assieme. Siamo più forti. Perché assieme. Possiamo. Condividere le nostre idee. Tra di noi. Condividere i nostri video. Tra di noi. Condividereci i nostri scritti. Tra di noi. E crescere sempre di più. E diventare milionari. E conquistare il mondo. Fantastico. Vi ho detto questo. Veniamo. Alla parte più bella. L'estrazione. Siete 44. Quindi voglio stare. Un numero da 1. A 44. Questo è random.org. Un sito. Dove. Ci sono implementati. Gli algoritmi. Per far sì. Che il numero estratto. Sia totalmente casuale. Inoltre. Quello che volevo dire. E' che. Ciò che vi passerò io. Sarà un link. Al riscatto di un gift. Di una chiave. Per steam. Tramite humble bundle. Vi contatterò. Su steam. Se non avete dato. Le cose di sistema. Avete dato. I vostri contatti di steam. Su youtube. Se non mi avete dato. I contatti. Che fossero mail. Cioè. Su email. Se non mi avete dato. L'email. O su youtube. Se non mi avete dato niente. Vedrò. Spero di. Datemi comunque tutti. Un segno. Di risposta affermativa. Quando ricevete. Quello che vi do. Che siete riusciti a riscattare tutto. Perché io così so. Che è andato. Allora. Primo numero. Da 1 a 44. Primo estratto. Madonna mia 44. Uuuu. Per. 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 Aspetta eh. Attenzione. Per gunpoint. Abbiamo. Sei. Brian Pitino. Vince gunpoint. Dimmi. Aspetta. Che segno. Gunpoint. Segno. Che. Te non mi avevi detto niente. Riguardo. Problemi. Non ce l'avevi già. L'unico che ci aveva. E' quello che aveva. Cusate delices. Se non ti piace. Mi sa che te lo tieni. Ah 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 ah. Sono simpatico. Ma no ma dai. L'unico che ha detto. Non voglio gunpoint. Mi dispiace. No se c'è qualcun altro. Il prossimo estratto dice. Potrei avere gunpoint. O potrei non avere il gioco che hai ricevuto. Potete far cambio. Papers please. Per papers please. Estrazione adesso. Il secondo estratto è. 15. Galaxy Luke. Galaxy Luke. Si prende. Che. Che. Che cos'era? Papers please. Papers. Gran bel gioco. Papers please. Come gunpoint. E come. Cusate delices. Ehm. Quindi fatemi vedere. Controllare. Numero 15. Galaxy Luke. Do stai? Do stai? Che. Ah se questo è 678 910. Non ci dovete ricordare. Ehm. Se potessi scegliere il gioco. Ragazzi non ci credo. Quindi. Brian Pitino. Si prende. Papers please. E. Galaxy Luke. Si prende. Gunpoint. Ma io vi adoro. Non. La legge dei numeri. Non poteva capitare. Grazie. Random.org. Grazie. Ehm. Infine. Per Cooks. Serve delicious. Il terzo estratto è. Due. What the game. Mi dispiace per quello che mi ha detto. Mi metti due. Che è il mio numero fortunato. Mi dispiace tantissimo. What the games bring to do. Giusto? Mi sono segnato solo what the games. Ma adesso ti dico correttamente. What the games bring to do. Ehm. Che. Io però non ci credo. Sono indeciso tra gran point di Pepper's please. Ho già scartato Cooks are delicious. Che sei vinto. Ehm. Quindi mi dispiace. Ti prendi Cooks are delicious. Gli altri. Se non si amminassero così bene. Mi dispiace. Non puoi scegliere il momento di estrazione. E. Gli altri due. Si sono scambiati. A meno che. Brian Pitino. Ehm. Alcetti Cooks are delicious. Al posto di Pepper's please. Però non lo so. Ragazzo mio non lo so. Adesso vi contatto. E niente. Termino con il video che ci ha durato 37 minuti. Lo sapevo che sarebbe durato tantissimo lo stesso. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Date un abbraccio a chi ha vinto. Io do un abbraccio a tutti voi. Ci vediamo col prossimo video. Adesso contatterò i tre vincitori. Per di più. E' gente che è spesso sotto il mio canale. Quindi. Sarà più facile riuscire a contattarli. Ehm. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.